Non serve ricostruire quartieri ghetto, piuttosto gli inquilini dell'ATAR potrebbero occupare le piastre vuote del progetto case con la gestione affidata all'ATAR stessa, che ha competenza e personale. La lancia così la proposta il sindaco Massimo Cialente, indirizzato ovviamente a ATAR, ma anche al presidente della regione Abruzzo e all'assessore Di Matteo. Non ricostruite tante case in posti che sono più che altro ghetto e così via, non è giusto, cominciamo a ragionare ad esempio di scambiare i tanti appartamenti che noi abbiamo, perché scambiando questi appartamenti noi avremo, parliamo di 400 appartamenti, noi avremo la possibilità non solo di non spendere soldi per ricostruire, ma soprattutto, vedi, io credo che l'errore grave che si fa in Italia è realizzare le case popolari, non so, per 3-4 mila persone, tutte insieme in un posto, spesso sono periferici, staccati dalla città e questo portano a avere propri ghetti nel tempo. Il sindaco ha avanzato questa proposta che per lui consentirebbe un grande vantaggio per entrambi i comuni e ATAR, del resto i soldi per ricostruire le case ATAR a Mette Cialente arrivano a Singhiozzo e dunque questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Al momento nessuna risposta al primo cittadino. L'ATAR disse perché non mettete i nostri inquilini in alcuni progetti, in alcune piastre, cioè gestiamo noi, non fu possibile, c'era il sistema gioiello e così via. Io dopo molti incontri, adesso ho fatto una proposta all'ATAR che non mi risponde, che è la seguente, noi adesso potremmo procedere con la collaborazione dei cittadini a uno spostamento progressivo per cui gli inquilini ATAR andrebbero in alcune piastre, che non mettiamo tutti in una new town, ma distribuiti nei vari quartieri, nuovi quartieri, nelle new town e a questo punto noi certerremo la gestione straordinaria del progetto gas, mentre tutta la gestione la farebbe l'ATAR.